ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video oggi voglio aprire con voi un altro uovo ho scelto il galak prima di iniziare come sempre vi ricordo se vi fa piacere di supportare il mio canale iscrivendovi e se vi va di seguirmi anche negli altri due social ora iniziamo subito prima di aprire l'uovo con voi volevo fare un mini blog c'è un blog dentro il video dove vi mostro i miei step di stamattina quindi la mia skin care poi vi volevo dire una novità io ho deciso di fare attività fisica ovviamente da principiante in casa e ho deciso di acquistare il total power crunch quello che pubblicizzano in tv di giorgio mastrota ce ne sono tanti anche simili come prezzi erano diciamo tutti uguali ho deciso di ordinare lui mi è costato 77 euro più 8 euro di spedizione è arrivato nel giro di 48 ore e vi mostro intanto momento nel quale è arrivato e quindi abbiamo l'abbiamo incominciato a montare o meglio l'ha montato mio marito deciso di utilizzare questo attrezzo che penso sia abbastanza completo soprattutto per una persona che non fa attività fisica da anni non mi piace andare in palestra uno non ho tempo e non mi piace andare in palestra non mi piacciono le palestre almeno adesso non mi interessano in passato da ragazzina sono andata ma adesso non mi attirano più l'unico tipo di tipologia di palestra che potrei eventualmente ricredermi e frequentare sono quelle palestre dove c'è la ginnastica che viene fatta con un'imbragatura e sono so come si chiami con un'imbragatura elastica li potrei farci un pensierino perché mi attira tantissimo ma per il resto le palestre classiche a me non attirano comunque ho deciso di fare questo attrezzo 10 minuti al giorno la mattina appena sveglia prima di fare la doccia quindi stamattina primo step ho fatto questo poi mi sono fatta la doccia ho fatto la mia solita skin care il primo prodotto che utilizzato stamattina mentre vi parlo ve lo mostro è sempre la maschera che mi è stata inviata da yes style sinceramente io sono innamorata di questa maschera perché io la metto nel viso non ho mai tantissimo tempo quindi faccio dei leggeri massaggi la lascio giusto tanto di lavarmi i denti la rimuovo la che ho in eccesso la mettono nei corsi delle maniche io molto secche e mi nutre la pelle poi sciacquo elimino tutto è già quello che ho già detto che è un passaggio che ne sostituisce tanti altri poi ho preso il tonico e ho messo queste goccine subito dopo e ho tamponato dopodiché sono andata a mettere la crema e poi per effettuare il trucco ho preso il mio fondotinta skin realist che sinceramente la colorazione non è adatta per il periodo e il numero mi sembra che sia la colorazione media per me l'ideale è la light però l'ho terminata e voglio terminare anche questo però diluendolo con due gocce di questo olio che mi ha inviato sempre yes style riesco a distribuirlo in maniera non pesante ma leggera e quindi il colore camuffa un po sfumandolo riesco ad avvicinarmi un po di più al colorito attuale una volta fatto questo poi ho continuato con i soliti prodotti per effettuare quindi il trucco ho messo il lash l'ombretto sempre quello di chicco steso nella palpebra mobile fatto la solita proiezione delle sopracciglia la matita insomma un trucco semplicissimo sono andata come al solito mio marito a fare la colazione mi sono dimenticata di filmare all'inizio quindi vedrete quasi la fine della colazione perché le paste le avevamo già consumate e niente questa è stata diciamo la mia mattinata allora ho deciso di portare qua nel canale giusto per variare un attimino ed uscire da quelli che sono i miei soliti video che riguardano sempre gioielli outfit e tutte queste cose qui ho deciso di portarvi il mio allenamento di 10 minuti ovviamente non vi farò 10 minuti perché giusto qualche momento e mostrarvi i miei sperando che ci siano cambiamenti quindi ho in mente di pesarmi ovviamente seguirò una dieta non sarà una dieta drastica come quella che avevo fatto fine 2018 inizi del 2019 perché non sono ancora con la testa pronta per fare una cosa del genere e quindi non sono pronta a fare dei tagli netti e radicali come in quel periodo però voglio cercare di regolarmi un po di più con un'alimentazione sana e di fare movimento tutti i giorni costante per 10 minuti che non sono tantissimi però se fatti secondo me regolarmente 7 giorni su 7 io penso si possano ottenere i risultati che vorrei ottenere io io ho raggiunto un peso molto elevato per la mia tipologia alla struttura ossea perché sono arrivata a 78 chili il peso ideale quando mi ricordo era andata dal mio nutrizionista mi sembra che fosse 55 chili quindi io chili in eccesso ne ho parecchi per giunta ho problemi alla schiena quindi dovrei cercare e anche alla circolazione dovrei cercare di ridurre notevolmente però ve l'ho già detto più volte voglio ridurre per un fattore di salute in primis d'altro canto non mi va di perdere tantissimi chili perché superati i 50 anni la pelle soprattutto il viso ne risente quindi preferisco andare gradualmente perderne magari di meno però non superare quella soglia l'ideale per me sarebbe 68 chili che comunque un sovrappeso però ecco 68 70 chili però sodi e nei punti giusti questo è il mio obiettivo almeno il mio primo obiettivo poi lo sapete che quando una persona raggiunge un obiettivo vuole poi fare di meglio e raggiungerne degli altri o per il momento non voglio senz'altro scendere sotto i 65 chili perché il mio viso con sotto i 65 chili a me non piace comunque quindi ho in mente di portare questa tipologia di video ovviamente a livello amatoriale non sono un'esperta condividerò semplicemente con voi i miei speriamo traguardi vorrei arrivare al periodo estivo o comunque periodo dove si va al mare in maniera un pelino più decente vorrei guardarmi allo specchio riconoscermi perché questa volta ho veramente perso di vista il mio peso apriamo l'uovo per chi si è legato su questo video per l'apertura dell'uovo non ha voglia di sentire i miei discorsi sulle diete e quant'altro questo è l'uovo l'ho preso a 9 euro e 90 l'ho acquistato alla conad devo dire la verità che oggi le uova che erano presenti alla conad sono aumentate tantissimo io stavo cercando l'uovo quello di clio non riesco a trovarlo e quindi quello che mi ha attratto anche come cioccolata è questo sono cambiata gli occhiali così vi posso dire esattamente quanti grammi ci sono di prodotto e senza glutine grammi sono 230 ho cambiato leggermente inquadratura così vi mostro nel dettaglio l'apertura dell'uovo quindi c'è sempre il solito cartonato che c'è poi in tutte le uova e per fortuna hanno messo il nastrino per poterlo aprire senza rompersi le unghie e si può anche richiudere se ne avanza questo il solito bicchierino il profumo è ottimo però non avevo dubbi perché dalac è ottimo non so come aprirlo il cioccolato si presenta così in certi punti è molto spesso e ovviamente lo assaggiamo ovviamente non un pezzo enorme è ottimo molto dolce il sapore quello della cioccolata galak però ha un valore aggiunto perché all'interno c'è il buffer questa è la sorpresa non so cosa ci sia all'interno non ho visto video ci saranno senz'altro un sacco di video ma non ho visto nessun video di uova all'interno c'è questo forse sono delle carte si sono delle carte memory poker questo è il gioco sono pochissime carte secondo me saranno una decina 12 quindi sei coppie mia figlia sin da piccola era l'unica vincitrice poteva giocare con chiunque di noi vinceva sempre lì aveva una grandissima memoria quindi questo è il gioco ricambio l'inquadratura riecomi qua allora a me il cioccolato della galak piace tantissimo con questo buffer all'interno è ancora migliore ovviamente la cioccolata galak rimane molto dolce quindi per chi non ama troppo i dolci io potrei mangiarmi quest'uovo da sola in un attimo ho una resistenza con i dolci incredibile ovviamente non lo farò perché ho iniziato questa dieta e quindi non voglio strafare di cose che comunque non mi fanno benissimo possiamo terminare il video io vi mostro qua lato mio outfit di oggi che è sempre sportivo e ho voluto arricchire un po l'outfit con questo colore ho voluto mettere questo giacchino in pile sotto sempre al giubbino over in denim quanto riguarda gli accessori ho voluto mettere il bianco e poi ho sempre il color jeans per quanto riguarda la tinta e quella nude quindi la numero uno di kiko il profumo che ho messo oggi è cashmere invece per i gioielli o la mia collana sempre con il nome quella con la piastrina pandora qua o l'anello non brand in argento che mio marito mi aveva preso in una crociera poi l'anello di pandora come fermanello anche se adesso non mi va larghissimo le mie due fedi e i braccialetti che ormai ho su da tempo l'orologio l'ho tolto perché si era scaricato che stanotte mi sono dimenticata di metterlo in ricarica il mio video termina qua io spero come sempre di avervi tenuto compagnia spero di riuscire a metterlo oggi io ne approfitto e faccio a tutte le donne i miei più sinceri auguri ciao a tutti e buona serata